Comunque vada, ci sarà un nome nuovo nell'albo d'oro del campionato di Serie A di calcio a 5. Una fra Pescara e Chaos Futsal Ferrara diventerà campione d'Italia. Gli abruzzesi la finale l'avevano già raggiunta nel 2011 perdendo contro la marca Futsal. Gli emiliani invece prima di questa stagione non avevano mai centrato l'accesso alle semifinali e quest'anno hanno compiuto il salto doppio, prima eliminando l'asti, poi ripetendosi sempre in trasferta contro la Luparense, campione d'Italia in carica. Dopo dieci anni non ci sarà una squadra veneta in finale. Lo Scudetto tornerà in Abruzzo cinque anni dopo il trionfo del Montesilvano oppure finirà per la prima volta in Emilia-Romagna. Per il Pescara questa è la terza finale stagionale. Quella del 32esimo campionato di Serie A arriva dopo quelle perse in Winter Cup e in Coppa Italia, entrambe per mano dell'asti. In questo senso il caos, oltre a passare il turno, ha anche eliminato la bestia nera dei biancazzurri che in quanto vincitori della regular season avranno il vantaggio del campo amico. Gara 1 e le eventuali gare 4 e 5 si giocheranno infatti al Pala Giovanni Paolo II di Pescara, lo stesso che ha ospitato le ultime tre edizioni delle Final Eight di Coppa Italia. La seconda e la terza gara della serie avranno invece come teatro il Pala Hilton Parma di Ferrara. Tre i confronti diretti di questa stagione fra Pescara e Ferrara, due vittorie del caos, una del Pescara. In campionato è finita 4 a 1 per i neri ferraresi in entrambe le circostanze, prima al Pala Hilton e poi al Pala Rigopiano. Le due finaliste del campionato si sono affrontate anche nei quarti di finale di Coppa Italia, proprio al Giovanni Paolo II, teatro della finale di questa sera. Il 26 febbraio sono stati Biancazzurri ad imporsi 5 a 3, qualificandosi alle semifinali. Per la gara di questa sera ci sarà il tutto esaurito nel Palasport del quartiere San Donato di Pescara. Sulle tribune ci saranno anche Massimo Oddo e i suoi ragazzi.